Se siete tra quelli che hanno sentito almeno una volta nella vita la frase fermati e metti giù lentamente il controller criminale, allora sicuramente fate parte di questo video, oddio spero di no, non mi piacerebbe qualcuno venisse arrestato a causa di un gioco. Eppure nel mondo accadono anche cose del genere, anche se in realtà non è sempre colpa dei videogiochi. E un motivo c'è, il titolo che attrae di più è sempre quello che riesce a far incazzare più persone. Ciao a tutti dal vostro top tenner di quartiere in questa nuova classifica all'insegna del gaming e dei fuori legge, se così vogliamo chiamarli, del mondo dei videogiochi, che per un motivo o un altro sono stati arrestati. Se siete seduti o sdraiati o seduraiati allora partiamo. Pokémon GO All'uscita di Pokémon GO in tanti si aspettavano avventure epiche alla Ash Ketchum, o Ketchup per gli amici, incredibili incontri con vari Pokémon e la nascita di amicizie che sarebbero durate all'infinito, oltre forse all'immortalità rimanendo della stessa età nonostante gli anni. Ma non fu così. Le cose furono leggermente diverse. Oltre, beh, a dei server all'inizio instabili e alla mancanza di Pokémon in zone rurali per chi come me abitava vicino a molte stalle con mucche come amiche, e con una rete lenta ma lenta, c'era pure il problema delle invasioni di zone private. Non parliamo di qualcosa da poco come calpestare un giardino o aspettare in modo inquietante fuori dal cancello di qualcuno spaventandolo. No no, parliamo di persone che a volte catturavano Pokémon pure in chiesa. Infatti uno youtuber russo di nome Ruslan Sokolovsky, una cosa del genere, ha rischiato fino a 5 anni di prigione per aver giocato in una chiesa e aver diffuso il video. In realtà non sarebbe stato poi un problema in altri paesi, ma in Russia ci sono leggi specifiche che vietano atti del genere in chiesa. E questo youtuber era contro la chiesa, aveva molti documenti e altri oggetti vari perquisiti dalla polizia che mostravano il suo odio. Ma non finisce qua. Avete presente la parte sull'amicizia? Beh, nella realtà quanto pare cercare i Pokémon a volte porta anche a qualche momento di odio e di lotte con botte vere. Sì, qualcuno si è confuso su cosa far combattere le braccia o i Pokémon. Un uomo di origini giapponesi della prefettura di Aichi era stato arrestato per violenza fisica a luglio 2019. Ha circa 43 anni e se l'era presa con un altro uomo di origini giapponesi, anche lui, di 44, per il controllo di una palestra locale. Penso ci fosse anche molto di più sotto, ma tra le spiegazioni è stata data questa. Alla polizia. Mi raccomando ci sono palestre per tutti là fuori, quindi cercate di non esagerare. Sono i Pokémon virtuali che devono combattere, non le braccia, come ho già detto. Minecraft Anche un videogioco del genere a volte viene usato nel modo più sbagliato. Tanti hanno una creatività fuori dal comune, ma altri aprono Minecraft per motivi diversi eppure illegali. John Peter, 24 anni, era un giocatore di Minecraft molto insistente, possiamo dire. La sua tattica era adescare le persone online, specialmente ragazze, parlando in chat e diventando quindi amici. Per fortuna è stato fermato prima che potesse succedere qualunque cosa di brutto, più o meno. Un giorno era riuscito a convincere una bambina di 11 anni a diventare sua amica. In poco tempo ha scoperto dove abitava e l'ha rapita dalla Florida, portandola in un hotel in Georgia. I genitori avevano chiamato in tempo la polizia e l'uomo era stato arrestato senza che potesse farle qualcosa di brutto. La madre e il padre non si aspettavano cose del genere, ma non le hanno tolto Minecraft. Le hanno solo detto di stare più attente e le hanno dato delle regole precise da seguire, come non dare mai il proprio indirizzo a qualcuno, oppure dati sensibili online. Ma su Minecraft accadono davvero tante cose. In un altro episodio un giovane ragazzo di 15 anni o forse meno con il nome in game di Dalton Barnhart, in una chat di gruppo aveva minacciato di andare nella sua scuola e compiere un atto terroristico. Qualcuno ha scattato uno screenshot e mandato tutto alla polizia, che è corsa direttamente dall'interessato, rintracciando l'IP. Arrivati sul posto lo hanno arrestato, vicino alla madre, che si è messa a parlare della situazione spiegando insieme al figlio che era uno scherzo. In questo caso i poliziotti hanno fatto solo il loro lavoro, non bisogna mai scherzare su certe cose, perché a volte si sono rivelate vere e le cose sono andate malissimo. La polizia è sempre vigile e pronta in certi paesi dove gli attentati ne hanno visti fin troppi. GTA Di malati nel mondo ce ne sono davvero molti e tanti di questi prendono alla lettera i film o i libri o i videogiochi, creando non pochi problemi alle persone. Come un certo Zachary Burgess, di 20 anni, dell'Università di Baton Rouge in Louisiana, dove è stato arrestato. Non si sa per quale motivo un bel giorno all'improvviso ha preso la sua macchina ed è andato in un parcheggio pieno di altre macchine e un camioncino. Rubando quest'ultimo con dentro una donna sul sedile passeggeri. Dopodiché ha cominciato a sbandare contro gli altri veicoli, rovinandone nove con segni evidenti. La polizia fortunatamente lo ha arrestato prima che potesse succedere qualcosa. E la donna sta bene. Zachary ha risposto che si stava annoiando e voleva vedere com'era imitare lo stile di vita di un personaggio di GTA. Ma solo la parte dove si rubano i veicoli e si corre ad alta velocità per le strade non aveva intenzione di far del male a nessuno. GTA comunque sembra avere brutte conseguenze più che altro sui genitori, che invece di guardare l'età limite ascoltano solo le lamentele dei figli che lo vogliono comprare. Una famiglia infatti lo ha comprato al loro bambino di 11 anni, che da allora non si è più staccato dal gioco, che sarebbe vietato ai minori di 18. Ma non è questa la storia interessante. Il fatto è che questi genitori sono qualcosa di veramente vergognoso perché per staccarlo dalla Playstation avevano deciso di portarlo a guidare un'auto vera. Perché? Mi chiedo perché per far smettere di giocare tuo figlio devi portarlo a guidare una macchina vera a quell'età. Così il padre ha portato l'undicenne in una strada trafficata a 20 all'ora. La polizia notandoli ha arrestato proprio il genitore che è uscito subito dopo aver pagato la cauzione. Fortnite Beh, devo proprio dirvi di che gioco parliamo. Non credo proprio e se non sapete che cos'è sicuramente avete vissuto in un bunker in questi anni. All'uscita era un videogioco come altri senza nulla di troppo particolare e un gameplay alquanto lineare dopo un po'. Ma con l'arrivo della versione Battle Royale le cose sono cambiate ed è diventata una vera droga per giovani e adulti. Ma questo ha portato anche a scene alquanto violente. Tra persone che spaccano i controller o le tv e altre che vengono quasi arrestate per aver usato dei trucchi per vincere. E per averle insegnate agli altri. Questo è il caso dello youtuber CBV che nei suoi video incitava ad utilizzare hack e codici per vincere le partite, ma Epic Games lo aveva notato citandolo in giudizio e portandolo in un'aula di tribunale. All'inizio i rumor sembrava parlassero di una maxi multa da 100 milioni, ma poi Epic Games aveva capito che essendo solo un ragazzino di 14 anni era inutile ricorrere a misure così drastiche. Quindi optò per altre vie. Ma a volte la dipendenza dal gioco ha portato ad episodi film troppo sconvolgenti. Un 26enne fidanzato e con un bambino stava giocando in live sul suo canale YouTube, quando la ragazza aveva cominciato a chiamarlo per la cena. Questo lo ha fatto arrabbiare moltissimo, perché era concentrato sulla partita e ha alzato le mani su di lei, che ha cominciato a urlare. Ovviamente non è colpa del gioco, altrimenti Mezzo Pianeta sarebbe composto da degenerati, ma del ragazzo che abusava della moglie spesso e volentieri, specialmente durante le sessioni di Fortnite. È stato alla fine arrestato dopo che dei giocatori avevano hackerato il suo account e mandato il video alla polizia. Call of Duty Lo swatting è una pratica ignobile utilizzata dai giocatori più deboli per compensare la loro mancanza di abilità. Consiste nel prendere in giro le forze dell'ordine e farle andare con l'inganno in alcuni punti precisi, dichiarando, che ne so, di aver sentito un terrorista che voleva fare del male a qualcuno, o di essere tenuti in ostaggio da una persona o altre scuse simili che ovviamente non sono vere. Questo a volte può costare davvero caro. I poliziotti agiscono senza sapere di preciso se sia vera o meno la cosa. Perché il loro lavoro è garantire la protezione dei civili a ogni costo. Il 28 dicembre 2017 un ragazzo di 25 anni chiamato Tyler Berris aveva chiamato la polizia dicendo di aver sparato a suo padre e tenuto in ostaggio altre due persone, in una casa in Kansas. La chiamata era stata fatta da Los Angeles, mentre il posto dove aveva mandato la SWAT era la casa di Andrew Finch. Quest'ultimo, sentendo la polizia alla sua porta, aveva aperto, ma subito li spararono temendo qualche atto avventato. I poliziotti hanno scoperto soltanto qualche minuto più avanti di aver commesso un grosso errore e sono riusciti a risalire al vero colpevole che aveva effettuato la chiamata. Berris adesso è in prigione e la sua cauzione è fissata a 500.000 dollari. È stato accusato di omicidio e probabilmente non uscirà molto presto se tutto va bene. In questo modo la famiglia di Andrew potrà essere davvero più tranquilla. Avete mai pensato a cosa potrebbe esserci nel Netflix del Giappone o in quello degli Stati Uniti? Beh, io a volte sì e in effetti ho scoperto che negli Stati Uniti hanno molte, ma molte più cose di noi. Circa il 40% in più. Film o telefilm unici che non vedremo mai. A meno che non usiamo un VPN, proprio come CyberGhost. Però questa è differente dalle altre. Ho deciso di accettare la loro proposta di sponsor perché a mio parere è la più completa. Siete completamente protetti quando navigate in internet. Potete guardare ogni genere di film o telefilm in ogni genere di lingua. Di ogni genere di paese. Utilizzando magari i sottotitoli su moltissime piattaforme diverse, quindi non solo Netflix. Ed eccone alcune. L'applicazione di CyberGhost è disponibile per Windows, Mac, iOS, Android, Amazon Fire Stick, Linux e altri ancora. E con un solo account potrete proteggere 7 dispositivi diversi. Se volete provare almeno una volta l'ebbrezza di essere i primi a vedere un film che in Italia magari uscirà l'anno prossimo, iscrivetevi utilizzando il codice che vi lascio in descrizione. Così da pagare solo 2 euro al mese. Il miglior prezzo finora sul mercato. E nel caso non siate contenti, entro 45 giorni potrete chiedere la restituzione del vostro denaro. E ovviamente l'assistenza clienti è disponibile per ogni problema di configurazione. 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e in 4 lingue diverse. Con questo concludiamo. Spero il video vi sia piaciuto. Nel caso lasciate un bel mi piace e noi ci sentiamo alla prossima gente. Stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.